Un epidemiologo in un'epidemia non può non intervenire, non può che dare il proprio contributo. In termini di emergenza, in termini di un contesto, è assolutamente una risposta alla chiamata alle armi del Presidente Conte. L'assessore della Regione Abruzzo, Guido Liris, ha difeso questa mattina davanti alla Commissione Vigilanza la propria scelta di ricoprire all'inizio dell'emergenza Covid-19 l'incarico di epidemiologo alla Asle 1. Una scelta fortemente criticata dalle opposizioni che intravedevano un profilo di incompatibilità e di sovrapposizione di indennità. Proprio su quest'ultimo aspetto, Liris dice Per legge non c'è nessuna possibilità che un dipendente pubblico prenda due stipendi. Prendendo uno stipendio devi rinunciare all'altro e viceversa, in quota parte o totalmente. Ecco quello che stabilisce la legge. L'assessore si dichiara infine soddisfatto dell'audizione nella sicurezza di aver convinto i commissari. Mi interessa anche più delle norme aver convinto la Commissione innanzitutto sulla buona fede, innanzitutto sulla compatibilità che mi è stata fornita dagli uffici e successivamente sul fatto che non c'era nessuna possibilità per legge che io prendessi un euro in più. Non pienamente soddisfatto è invece il Presidente della Commissione Vigilanza che insiste sul conflitto di interessi che avrebbe generato la scelta di Liris. Alcune delle risposte sono arrivate e altri quesiti non hanno trovato risposta. Soprattutto io credo che l'assessore Liris abbia sollevato una serie di motivazioni per la sua scelta legate all'opportunità, al contesto storico che stiamo vivendo, vivendo alla sua figura di medico, lui l'ha definita una chiamata alle armi in un momento di emergenza, va bene tutto. Certamente alle domande che abbiamo fatto, se c'era un parere del legislativo, se c'era un parere dell'avvocatura regionale, se mai lui avesse chiesto questi pareri, qui abbiamo scoperto che non c'era stato nessun parere ma nemmeno nessuna richiesta. Avremmo voluto sentirci dire che l'incompatibilità non c'era, in realtà è venuto fuori ed è emerso che forse questa incompatibilità è ancora tutta da verificare. Certamente a parere mio, a mio modo di vedere, c'è un conflitto di interessi importante, ma la cosa fondamentale che posso dire, se alla fine si è emersa, è quella dell'opportunità. L'opportunità politica certamente non c'era. Era il caso forse che l'assessore si impegnasse di più all'interno della giunta regionale, nelle vesti che lui riveste, quella dell'assessore al bilancio, che è certamente l'assessorato insieme a quello della sanità più coinvolto nell'emergenza Covid, forse avrebbe dovuto impegnare tutto il suo tempo H24 in quel ruolo e non certamente rientrare nella ASL dove altre figure potevano sostituirlo.